Riaprite la E45, i danni sono pesantissimi. Questo l'accorato appello del sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli, rivolto alle autorità giudiziarie di Arezzo per accelerare la riapertura ai mezzi pesanti del viadotto Puleto, sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio per rischio collasso. Lo scorso febbraio l'arteria era stata parzialmente riaperta, ma resta ancora lo stop per camion ed autobus. Per le condizioni in cui versa il viadotto, la procura è iscritta nel registro degli indagati cinque dirigenti ANAS per omessa manutenzione. Attualmente è in corso la perizia, svolta in incidente probatorio come richiesto dagli indagati sul Puleto. Solamente all'esito dell'accertamento, ANAS potrà riprendere lavori per andare così verso la totale riapertura. E così il primo cittadino di Sansepolcro adesso ha deciso di rivolgere il suo appello al procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi e al perito incaricato dal CIP affinché il percorso giudiziario legato alla chiusura venga sensibilmente velocizzato. Da mesi gli autotrasportatori devono far fronte a pesanti disagi che si ripercuotono inevitabilmente sul tessuto economico dell'intero centro Italia, scrive Cornioli, con importanti perdite diffuse per le quali non vi sarà mai un opportuno risarcimento. Alla luce di questo difficile quadro economico, in virtù del piano di ripristino già avviato da ANAS, l'amministrazione comunale auspica una celere conclusione delle procedure giudiziarie, favorendo così, conclude il sindaco di Sansepolcro, la piena operatività dei cantieri e la riapertura in tempi rapidi del viadotto anche al traffico pesante.